...attraverso la web tv della Camera dei Deputati. Sì, è anche in inglese, esattamente. L'ordine del giorno rega l'audizione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio nell'ambito dell'esame di sede referente della proposta di legge tra Ancassini 589 e Braga 647. Reganti e modifiche al Codice della Protezione Civile di cui ha il decreto legislativo 2 gennaio 2018 numero 1 e le altre norme in materia di gestione delle emergenze di rilievo nazionale. Ringrazio l'ingegnere Fabrizio Curcio, Capo del Dipartimento della Protezione Civile per la partecipazione ai nostri lavori e gli cedo la parola per lo svolgimento della relazione. Eccoci qua, ingegnere, prego, la parola a lei. Grazie, grazie Presidente. La ringrazio davvero per avermi incluso nel programma delle audizioni che sono promosse per l'esame congiunto delle proposte di legge dell'On. Trancassini, Braga ed altri sul tema della ricostruzione post-emergenza di protezione civile. Le due proposte che sono oggetto dell'audizione di oggi contengono misure finalizzate alla gestione dei processi di superamento dell'emergenza o come viene detto in maniera più semplice di ricostruzione a seguito di eventi di protezione civile o eventi che hanno un impatto, come dire, rilevante. La proposta 589, a firma degli On. Trancassini, Foti, Rotelli, inoltre contiene anche delle proposte mirate di modifica del codice della protezione civile, il noto decreto legislativo 1 del 2018, quindi correlate direttamente alla gestione emergenziale, quindi prodromiche, anche al tema degli interventi di ricostruzione. Ovviamente la tematica, dal punto di vista anche costituzionale, ricade pienamente nell'ambito del sistema di protezione civile e quindi nel corso dell'audizione mi permetterò di fornire alcuni spunti di riflessioni che sono basate sull'esperienza pluriannale che è stata vissuta dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri a partire dal 1982, quando fu istituito il Dipartimento e poi ovviamente consacrato con la prima legge, chiamiamo la legge Madri, la 225 del 92, e attualmente dal codice del 2018. Tra le altre cose che ha visto la partecipazione parlamentare in maniera molto ampia e coesa, anche rispetto al prodotto che poi è stato fornito. Tale presidio ha chiaramente abbracciato nel corso di più di tre decenni di vita tutte le serie di attività di previsione, prevenzione dei rischi, di preparazione e gestione dell'emergenza e devo dire in passato con uno spunto anche importante sui temi di ricostruzione, perché molto spesso anche nelle attività emergenziali il Dipartimento è stato fautore di attività di ricostruzione e sicuramente di indirizzo anche nelle ultime vicende importanti. È opportuno segnalare, comunque in via preliminare, che sul tema degli interventi di ricostruzione il Governo stesso ha approvato nel mese di giugno scorso una prima versione preliminare di un disegno di legge quadro in questa materia, che è attualmente in corso di approfondimento nell'ambito del confronto sempre proficuo con le regioni e le province autonome e le rappresentanze anche degli enti locali. Questo disegno di legge che è stato proposto dal Ministro Musumeci e predisposto dal Dipartimento di Casitalia e ovviamente anche per quello che riguarda la parte emergenziale anche con noi, acquisirà tra poco a breve il formale parere della conferenza unificata e quindi sicuramente questo percorso si integrerà anche con l'importante attività di studio, di indagine che è svolta da Codesta Commissione al quale oggi ho l'onore e vi ringrazio di nuovo di partecipare a contribuire. Nel merito delle misure, pertanto specificatamente per quelle che riguardano il processo di ricostruzione vera e propria, io mi limiterò quindi ad alcune osservazioni di ordine generale che sono scaturite dall'esame delle proposte parlamentari che sono ovviamente oggetto della Commissione, in sede di questa Commissione e anche appunto alla luce delle esperienze dirette che sono state maturate in questi decenni. Per quanto riguarda invece le proposte di modifiche al Codice di protezione civile, di cui a una in particolare delle due proposte di legge in esame oggi, la 589, formulerò alcune riflessioni anche in questo caso, come probabilmente è noto alla Commissione, c'è un ragionamento in atto anche di una revisione più organica, ampia del Codice di protezione civile che lo stesso Ministro Musumeci ha più volte annunciato anche pubblicamente e che per il momento è oggetto di alcuni confronti preliminari, quindi sono certo che tutte queste iniziative troveranno poi in sede parlamentare qualora anche le altre avranno seguito, come immagino, una forma di omogeneizzazione. Partiamo dalla ricostruzione. Allora, da una parte consentitemi di esprimermi che è certamente auspicabile la definizione di un modello che sia unico di intervento in processi di ricostruzione, come tra le altre cose è previsto in entrambe le due proposte di legge, una sotto forma di di delega, l'altra sotto forma di una norma più immediatamente prescrittiva. Però bisogna tenere comunque conto della dimensione di particolarità che inevitabilmente caratterizza ogni evento calamitoso, quindi ciascuna tipologia di eventi produce poi una serie di danni che sono specifici, noi lo vediamo chiaramente dal terremoto all'alluvione toccando due eventi insomma ben noti anche al nostro Paese ed è chiaro che questa peculiarità di evento si combina ancora con un'ulteriore peculiarità che è il territorio in cui impatta, quindi come ben sappiamo è ben diverso se impatta su una pianura industrializzata, per fare un esempio concreto, o una montagna che magari ha già delle questioni di declino demografico o una valutazione di definizione di mission territoriale. Da questa situazione diversa e questa combinazione diversa e complessa che unisce da una parte degli aspetti geomorfologici ma anche sociali ed economici scaturisce quindi l'esigenza di interventi, misure e processi che comunque sono differenziati e che sono pensati e finalizzati a cogliere quella che unicità inevitabilmente si produce a valle di questo evento. Su questa base quindi nel condividere la scelta che propende ad offrire al Paese la stabilità di un percorso di ricostruzione, su questo siamo tutti assolutamente convinti che ci sia bisogno di un processo stabile sulla ricostruzione che è basato su fondamente eque e non estemporane, mi permetto però di segnalare l'importanza fondamentale che deve avere i meccanismi di flessibilità e di adattamento alla situazione specifica dell'evento che ovviamente si dovrà fronteggiare nei termini di ricostruzione. E poi vorrei evidenziare inoltre che questa complessità è ulteriormente come dire aggravata, se posso usare questo termine, dalla inevitabile instabilità del quadro normativo generale di riferimento nel quale ci troviamo ad operare. Faccio un riferimento molto pratico. I tre grandi terremoti di questo millennio con i quali abbiamo dovuto confrontarci non solo in termini emergenziali, ma poi ci stiamo continuando a confrontare oramai a livelli ovviamente di attuazione diversa sulla fase di ricostruzione, sono stati gestiti sulla base di due differenti legislazioni quadro in materia di appalti e contratti pubblici. Da una parte ricordo il decreto legislativo 163 del 2006 per il sisma dell'Aquila e il sisma della pianura padana e il decreto 50 del 2016 per il sisma del centro Italia e anzi ricordo che in quell'occasione purtroppo l'abbiamo dovuto applicare in una sorta di prima istanza perché era stato emanato da poco. Il prossimo evento che ci auguriamo ovviamente accadrà il più lontano possibile dei giorni nostri e ricadrà in una terza e nuova matrice, quella che è regolata dal recentissimo decreto legislativo 36 del 2003. Tra le altre cose a ben vedere in nessuna emergenza è stata gestita con il medesimo codice degli appalti dal momento che anche il famoso decreto legislativo 163 del 2006 è stato modificato quasi senza soluzione di continuità più o meno ogni anno e spesso per elementi sostanziali. Allora questo esempio per dire che nei processi di ricostruzione e quindi anche nelle norme di ricostruzione noi non possiamo non tener conto del cambiamento delle condizioni al contorno che cambia con una certa continuità. Io ho citato per semplicità e per spero chiarezza il tema del codice degli appalti ma la stessa questione può riguardare la gestione dei rifiuti, delle macerie, gli ambienti, i beni culturali. Pensiamo solo al trattamento dei dati personali, alla gestione delle imprese, all'urbanistica, alle norme edilizie. Quindi in sostanza disegnare un modello unico che ripeto risponde ad una necessità di avere una soluzione omogenea è una sfida nel quale certamente noi anche noi crediamo ma questo modello funzionerà meglio se regolerà principi e indirizzi generali evitando di dettagliare situazioni che poi entrerebbero inevitabilmente in contrasto con queste modifiche di cui ho fatto brevemente cenno. Inoltre come sta emergendo anche in queste settimane in Emilia Romagna grazie all'azione integrata dei governi territoriali a tutti i livelli e del commissario straordinario è fondamentale che i processi di ricostruzione tengano conto nella misura possibile al massimo della volontà e aspirazione e vocazione dei territori e delle comunità che li abitano. Quindi certamente è molto difficile da fare ma ovviamente posso garantire che la maggior parte del tempo anche nella gestione emergenziale e in impiegata nell'ascolto delle persone, degli amministratori locali, delle organizzazioni e formazioni sociali che li rappresentano. Ogni territorio ha una sua vocazione, ogni territorio è impattato, subisce un danno specifico come abbiamo detto, ogni territorio ha poi la necessità di riprendere o cambiare il cammino e non si può che ripartire dalla conoscenza del territorio stesso. Quindi il suggerimento come ripeto mi pare presente anche nei testi è che sia incentivato ogni possibile forma di ascolto e condivisione di vera integrazione istituzionale perché non può sì restare una ricostruzione lontana dal territorio che si immagina di rimettere in piedi. Quindi l'emergenza è un esercizio di solidarietà, la ricostruzione deve esserlo nei termini di inclusione e ovviamente di un processo democratico. Il terzo suggerimento sul tema della ricostruzione che vorrei ovviamente condividere con voi è quella della l'ho chiamata l'integrazione intergovernativa. Cioè quanto più un evento emergenziale ha un impatto devastante sul territorio e quindi impatta sulle sue reti sociali, economiche, produttive e di comunità, tanto più è necessario che i livelli ordinari di governo e sottolineo ordinari, cioè quelli preposti a quelle reti, siano i veri protagonisti del processo di ricostruzione. In fin dei conti questo è ampiamente specificato anche nella nostra carta costituzionale, l'articolo 117, i commi 3 e 4 che dedicano alla potestà legislativa e concorrente e a quella esclusiva delle regioni e delle province autonome questa incombenza. Quindi risulta evidente che un processo di ricostruzione che è successivo ad un evento calamitoso e di proporzioni importanti debba intercettare direttamente o indirettamente questo riferimento diciamo governativo e di architettura amministrativa e governativa dello Stato che si articola nelle sue diverse diciamo livelli a livello territoriale e a livello nazionale. Solo interloquendo tra chi ha competenze ordinarie e quotidiane con chi gestisce la parte straordinaria di ricostruzione potrà portare ad un risultato che è il migliore per le comunità che si intendono ricostruire. L'ultimo suggerimento per quello che riguarda la fase ricostruttiva riguarda per noi un tema che di primaria rilevanza e che periodicamente devo dire viene affrontato in ambito anche governativo ma anche in un ambito più ampio parlamentare. È un tema molto attuale anche riportato ed evocato a causa dell'evoluzione dei cambiamenti climatici che ovviamente pongono le società avanzate come la nostra di fronte a delle sfide che sono sempre più cruciali, urgente e che necessitano anche di finanziamenti importanti. Allora riprendere il tema assicurativo, riprendere il tema della connessione tra il pubblico e il privato, tra la gestione degli impatti catastrofici, la responsabilizzazione dell'intera filiera del Servizio Nazionale della Protezione Civile e di strumenti assicurativi che comunque sono anche applicati in maniera diversa in ambito internazionale e mondiale, credo che sia un tema che possa trovare spazio anche in una idea, un processo di ricostruzione, tenendo ben presente che il percorso assicurativo deve unire un'equità alla possibilità dei fenomeni di ricostruzione ma ovviamente deve intercettare poi le politiche concrete di mitigazione dei rischi naturali. Questo diciamo per quello che riguarda la parte, chiamiamola, di ricostruzione. Se invece posso spostarmi sui spunti relativi alle proposte di modifica del codice della protezione civile, ovviamente la proposta dell'onorevole Trancassini che come primo firmatario è ovviamente variegata, tocca diversi punti. Io vorrei solamente evidenziare, ma lo faccio a dei commissari che ben conoscono anche il sistema di protezione civile, come la legislazione di materia di protezione civile abbia attraversato nel corso degli anni delle fasi espansive e delle fasi compressive. La capacità innegabile che il nostro sistema Paese ha espresso ed è in grado di esprimere nelle condizioni di forza e stress provocato da una gestione emergenziale, qualunque se sia sismica o alluvionale, ha prodotto, dopo una serie di eventi importanti, in passato un sensibile ampliamento della misura istituzionale del Servizio Nazionale della protezione civile, andando in qualche modo a superare anche alcune regole, parametri di riferimenti che in passato hanno costituito questo sistema in forte espansione e utilizzato anche un po' i limiti delle finalità proprie di protezione civile. A queste fasi espansive nel tempo però hanno fatto seguito inevitabilmente degli episodi di eccesso, ci si è spinti troppo, sto parlando del passato, e quindi è avvenuto che questi fenomeni espansivi sono stati seguiti dai fenomeni, come dire, compressivi, fin troppo compressivi. Sto facendo una storia ben noto a tutti, anche perché tutto ciò ha portato una serie di incidenti di percorso che hanno innescato delle reazioni di compressioni, portando il sistema anche a privarlo di ogni capacità di incidere concretamente. Ricordo la gestione emergenziale del 2012 ha rappresentato una delle situazioni più difficili sotto questo aspetto, tant'è che si dovette intervenire con un decreto legge che in qualche modo andava a rimodulare i poteri emergenziali durante la gestione operativa. Quindi in sostanza le modifiche che furono portate dal 225, portate nel 2001, che miravano a liberare al massimo l'azione del servizio nazionale e quindi i principi ispiratori che furono, lo vorrei sottolineare ancora una volta, da parte del nostro Presidente Zamberletti, che aveva la visione chiarissima di quella che era l'organizzazione istituzionale e, come dire, la migliore risposta possibile per avere un sistema di protezione civile moderno, ha fatto poi da contrattare le modifiche introdotte a partire dal 2010, che andavano nella direzione opposta, fino a giungere al decreto legge 59 del 2012, che se fosse stato convertito, come era stato proposto in legge, avrebbe comportato dal nostro punto di vista, ma insomma penso che sia abbastanza condivisa, la distruzione definitiva del sistema di protezione civile, così come l'aveva immaginato proprio Zamberletti. Da allora è partito questo processo di revisione. Ingegnere, mi scusi, mancano circa otto minuti alla fine dell'audizione e pensavo pure di poter dare parola ai commissari che stanno qui in Aro e collegati, così almeno abbiamo il tempo per fare delle domande. Allora vado in chiusura. Grazie. Grazie a tutti. Dopo una serie di valutazioni fu limitato in 12 mesi più 12 mesi, quindi tutto ciò che viene considerato gestione emergenziale, quindi chiamiamola in maniera stringente di competenza del Servizio Nazionale di Protezione Civile in senso stretto, viene circoscritto in questi 12 mesi più 12 mesi. Perché dico questo? Perché la proposta prevista dall'On. che ha come obiettivo, da quello che penso io, l'accelerazione di questi processi in realtà va a restringere quel tempo, andando in qualche modo a restringere anche dal nostro punto di vista, se abbiamo ben compreso la proposta, l'attività operativa del sistema di protezione civile. Noi in realtà stiamo ragionando su un'espansione di quel tempo, proprio perché in quel tempo rappresenta l'azione del Servizio Nazionale di Protezione Civile. Poi altre brevissime, ma le dico veramente per punti, per aderire ovviamente alla sua richiesta, ovviamente noi abbiamo tutta un'altra serie di punti sui quali bisognerà continuare a lavorare, c'è l'adeguamento del perimetro dell'operatività del Servizio Nazionale e le nuove sfide, l'abbiamo già detto, anche per la gestione emergenziale, quindi non solo i rischi di protezione civile ma gli impatti di protezione civile, ovviamente le attività di semplificazioni di alcune procedure, la potenzialità degli enti locali e delle regioni è essenziale che sul territorio si vada a potenziare, chi poi opera sul territorio indipendentemente dalla gestione emergenziale, l'attività del volontariato, il consolidamento delle partecipazioni delle professioni o la semplificazione in materia dei contratti pubblici e infine le disposizioni che sono volte a ridefinire i profili di responsabilità degli operatori di protezione civile che è un tema, l'altro giorno si parlava su altri argomenti della medicina difensiva, dobbiamo recuperare questo tema della responsabilità per evitare che ci sia una protezione civile difensiva. Chiedo scusa sul rush finale ma spero di aver aderito Presidente alla sua sollecitazione. Assolutamente sì, grazie ingegnere. Allora vediamo se c'è qualcuno sia collegato che è qui in commissione che vuole prendere la parola. Collegati no? In commissione? Possiamo far fare qualche altro passaggio all'ingegner Curcio se volete. Non ci sono interventi? Prego Trancassini. Grazie Presidente, saluto e ringrazio il responsabile della protezione civile Fabrizio Curcio. Parto da una sua considerazione finale per fare una domanda. Lei dice abbiamo avuto una fase espansiva, una fase restrittiva, sappiamo esattamente cosa intende per questo e dice abbiamo trovato un punto di equilibrio. Ecco io richiamo la sua attenzione sul punto di equilibrio perché io credo che noi anche noi nel ridigere questa legge abbiamo cercato un punto di equilibrio però lo abbiamo cercato altrove tra due formule che secondo me una è la negazione dell'altra cioè la formula restrittiva parte da un presupposto negativo e cioè che devo dare meno poteri possibili o comunque devo controllare i poteri della protezione civile perché potrebbero essere o controproducenti o comunque generare delle diciamo delle storture e noi il punto di equilibrio abbiamo trovato proprio nel restringere la fase emergenziale ed evitare quello che sta succedendo in questo momento. Noi siamo in emergenza dal 2016 nei paesi colpiti dal sisma, mi riferisco al sisma di Amatrice e non può essere una fase emergenziale che dura sette anni e che probabilmente ne durerà non dico altrettanto ma sicuramente qualche altro mese se non qualche altro anno. Questo perché? Perché nella fase emergenziale noi ci aspettiamo che la protezione civile sia tempestiva, efficace, efficiente come sa esserlo a condizione che uno la mette in condizione che gli vengano dati i giusti poteri e soprattutto che abbia strade semplici da percorrere. Ecco perché dicevo che secondo me il punto di equilibrio e questa è la mia domanda dovrebbe stare qua e cioè l'idea di questa legge vede una protezione civile che nel momento in cui si genera una calamità è immediatamente operativa ed è operativa però con poteri e con mezzi e soprattutto con un approccio tempestivo e semplice che sia quanto più efficace possibile per cercare di ripristinare quelli che sono i servizi che servono per far ripartire le attività e quindi una vera e propria fase emergenziale per poi passare a una fase che è sicuramente delicata, sicuramente complicata ma che non è l'emergenza che è appunto quella della ricostruzione. Non pensa che questo può essere un punto di equilibrio? Grazie collega Trancassiri. La collega Braga, prego. Grazie Presidente, saluto anch'io il Capo Dipartimento e i colleghi. Molto brevemente lo ringrazio per le indicazioni utili che ha dato sulle proposte di legge che sono all'esame. Ma intanto credo che sia prezioso il riferimento e il contributo dato dal Capo Dipartimento perché il tema della protezione civile è stato in parte oggetto di un percorso analogo che in parte ricalca il tentativo di intervento legislativo di cui stiamo discutendo, cioè provare a rimettere a sistema in un testo unico, in un codice, la gestione prima della fase dell'emergenza, strettamente dell'emergenza e poi questa della ricostruzione. Quindi la prima è una valutazione rispetto anche in base alla sua esperienza quanto possa essere opportuna un'iniziativa che cerca di dare un quadro, una cornice di riferimento unitaria al tema della ricostruzione nelle sue specificità che sono ovviamente anche diverse da quella della gestione dell'emergenza. L'altra domanda rispetto alla diversità anche dei test di legge che sono all'esame, se può fare una valutazione sull'approccio che alcune proposte di legge danno riconoscendo un ruolo primario attivo di competenza dei singoli comuni, se quella è la dimensione diciamo a suo avviso e in base anche all'esperienza in qualche modo maturata in questi anni nelle varie emergenze corretta, giusta, su cui imbastire e incardinare il processo della ricostruzione post-emergenza. Grazie. Prego ingegnere, grazie a lei, collega Braga, per una risposta, per una replica ai due interventi. Grazie, grazie ovviamente sia all'onorevole Trancassini che all'onorevole Braga, che saluto entrambi. Allora, il punto di equilibrio, in realtà probabilmente, a parte quest'ultima parte dei comuni che mi riserva in un secondo momento, la parte del quadro unitario al quale faceva riferimento l'onorevole Braga, che in qualche modo è anche un po' la parte iniziale di quello che diceva l'onorevole Trancassini, quando è che la parte emergenziale finisce, quando è che inizia la fase ricostruttiva, è il tema della tempestività. Questo mi sembra che in qualche modo fossero un po' i due temi. Allora, certamente il tema della tempestività ed efficacia ed efficienza è un tema importante. Non c'è dubbio che la rimodulazione di un certo tipo di processo che prevede più fasi per la dichiarazione di stato di emergenza, che va a fare riferimento, per esempio, solo all'assistenza alla popolazione, piuttosto che poi al ripristino delle reti infrastrutturali, il rischio residuo, cioè le cose che oggi valgono. Questo processo di semplificazione, io sono d'accordo con l'onorevole Trancassini, ci aiuterebbe moltissimo in tema della tempestività e nel tema dell'efficienza e della semplicità. C'è ovviamente un tema finanziario dietro, perché non scordiamo che i temi che sono stati poi posti all'epoca, anche con il codice di protezione civile, avevano poi la necessità di stabilire per alcune emergenze la prima fase e la seconda fase, perché in qualche modo cercavano di andare a regolamentare anche l'aspetto economico-finanziario. Quindi questi due temi sono assolutamente da considerare insieme. In relazione alla famosa tempestività ed efficacia, e qua provo a rispondere, come dire, a entrambi, per quello che è ovviamente il mio modesto punto di vista, è chiaro che la gestione emergenziale e la gestione di ricostruzione tiene conto di tutte quelle azioni e quelle situazioni di cui abbiamo parlato. Io eviterei di fare riferimento alle gestioni di stati di emergenza aperti, anche molto lunghi, perché in realtà quello è derivante dall'impostazione della norma di ricostruzione, cioè se la norma di ricostruzione basa la propria attività sulla dichiarazione di stato di emergenza, è chiaro che si fa fatica anche quando l'emergenza, come dire, in qualche modo operativa è terminata a proseguire nell'azione senza la dichiarazione di stato di emergenza, cioè è uno stato giuridico più che operativo. Quindi noi dobbiamo, dal nostro punto di vista, dividere lo stato giuridico dall'azione operativa. Faccio l'esempio. Se oggi ci sono dichiarazioni di stato di emergenza, anche per eventi sismici, importanti, non è che in questo senso noi stiamo svolgendo un'attività come Servizio Nazionale di Protezione Civile perché c'è un'emergenza ancora in corso. C'è una fase di ricostruzione, ma se la fase di ricostruzione è stata impostata giuridicamente su una dichiarazione di stato di emergenza, si fa fatica ad allontanarsene. Allora io credo che quell'equilibrio che giustamente sia l'On. Braga sia l'On. Trancassini, come dire, invocavano ed evocavano, deve tener conto del fatto che ci sono delle situazioni, eventi, territori e impatti in cui le prime azioni di protezione civile durano di più e ci sono situazioni, eventi e impatti in cui le azioni operative di protezione civile durano di meno. Dipende anche da quanto è pronto il territorio, da quello che è successo. Quindi io tendenzialmente, chiaramente dalla mia visione operativa, la legherei non tanto ad un'azione collegata ad un tempo, ma ad un obiettivo da raggiungere. Cioè se io impiego tot tempo per fare le soluzioni d'emergenza per i cittadini, non è che dopo 12 mesi quella roba chiude, o l'hai fatto o non l'hai fatto, perché impiegherò più o meno tempo in funzione dell'impatto. Quindi quel punto di equilibrio mi vede assolutamente convinto e d'accordo per quello che ovviamente vale il mio parere, però secondo me è variabile. Sul secondo tema, cioè il tema relativo all'approccio sulla parte dei comuni, non c'è dubbio che il ruolo dei sindaci è assolutamente importante e fondamentale. Quanto però questo ruolo del sindaco, quindi del singolo comune, debba avere e debba essere gestito in una visione territoriale più ampia, questo è altrettanto importante. Io ovviamente non posso che fare riferimento, siamo reduci adesso dal festival delle regioni tenuto a Torino lunedì e martedì scorso, in cui i governatori hanno riportato all'attenzione anche del governo, ma insomma sicuramente quello lo faranno anche con gli strumenti opportuni del Parlamento, e si è parlato di autonomia differenziata. Ovviamente non sta a me, ci mancherebbe altro esprimermi su questo tema, ma non c'è dubbio che nel sistema di protezione civile le regioni sono non solo coloro che hanno per costituzione la responsabilità in quanto materia concorrente, ma sono anche quell'ente intermedio che omogenizza le risultanze del territorio. Quindi sicuramente i sindaci devono avere dei ruoli fondamentali e importanti sulla gestione del territorio, ma certamente, se escludiamo le città particolarmente rilevanti numerose che rappresentano, devono essere poi omogeneizzate in una forma di area più vasta che vedono oggi nelle regioni un punto di riferimento, secondo noi, come dire, per il momento imprescindibile. Grazie ingegnere, penso che non ci sono altri interventi, quindi ringraziamo Fabrizio Curcio, capo del Dipartimento della Protezione Civile per il contributo verso i nostri lavori e dichiariamo concluso all'audizione. Grazie ingegnere, buon pomeriggio, buon lavoro. Grazie a voi, davvero buon lavoro, grazie Presidente.